Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata della Computer Museum puntata che sarà sul test della telecamera esterna del Cubot P9 adesso stiamo registrando con la modalità fine che ha questo Cubot praticamente anche se sembra più che è una qualità un po' del cavolo anche perché come state vedendo sta andando tutto a scatti le immagini sono abbastanza realistiche infatti è quello che sto vedendo in questo momento ci sono veramente queste nuvole nere che vedete qui però il problema, il unico problema è che si vede come vedete rallentato infatti devo dire che è una brutta cosa in caso che dovete registrare come me con velocità fluida in questo caso la telecamera non è anche chissà che però vabbè sempre meglio di niente per 99€ adesso stiamo facendo un po' di test comunque l'esposizione del bilanciamento del bianco è abbastanza fluido